Sì, contano molto anche le parole e come giornalista dico che le nostre contano a volte anche di più. Quel titolo, il gigante buono, mi ha ferito doppiamente, mi ha ferito come persona e come uomo e mi ha ferito come giornalista. Ecco, credo che fare attenzione su queste cose, sul discorso della raptus che appare un evento di giustificazione, sul discorso che in qualche modo sempre attenua o giustifica, sarà un piccolo passo, piccolissimo, qualche volta ci sembra di svuotare il mare con un secchiello, ma va fatto perché va fatta davvero terra bruciata intorno alla cultura che poi produce fino all'omicidio.